Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto le anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 7 all'11 agosto. Partiamo dall'episodio di lunedì 7 agosto, dove Ankar è stata uccisa per mano di Beis e il suo corpo non è ancora stato trovato. La notizia della sua scomparsa scatena un'ondata di ricerche intense per trovarla. Fekeli, che aveva appena proposto il matrimonio a Ankar, è tra i più preoccupati e si unisce alle ricerche con l'aiuto di Ilmaz. Dopo lunghe ricerche, un dipendente di Demir trova uno scialle nella campagna, scatenando un'allerta immediata. Demir si precipita sul posto e, dopo pochi passi, trova il corpo esanime di sua madre. La disperazione lo travolge e decide di riportare il corpo nella villa, adagiandolo sul letto prima di prepararla per l'ultimo addio. Zuleya, Ghaffur e Saniai, commossi dalla scena, provano un grande dolore per la morte della loro padrona. Nel frattempo, Aziz, ancora combattuto dalla demenza senile, si convince che Ankar non abbia perso veramente la vita e copre il corpo con un lenzuolo. Fekeli, devastato dalla perdita di Ankar, si chiede perché sia andata via proprio ora che avrebbero potuto essere felici insieme. Nel prossimo episodio di Terra Amara, in onda martedì 8 agosto, la notizia della morte di Ankar si diffonderà rapidamente a Kukurova e anche Mugeigan verrà a saperlo. La dottoressa ripensa una conversazione avuta con Weiss in cui le aveva promesso di risolvere la situazione riguardante le imminenti nozze tra Ankar e Fekeli, sottolineando che avrebbe cacciato Ankar dalla casa di Fekeli se fosse diventata sua moglie. Mugeigan inizia a sospettare che la zia possa essere coinvolta nell'omicidio di Ankar e, senza esitazione, parla con Weiss. Weiss reagisce con rabbia e le chiede scusa solo quando verrà trovato il vero colpevole. Piangendo, Weiss abbandona la tenuta di Fekeli, sostenendo di essersi sentita offesa dalle insinuazioni di Mugeigan. Ma in realtà, Weiss ha un piano per incastrare qualcun altro per l'omicidio e capisce che la vittima più facile potrebbe essere Sevda, a causa dei contrasti tra lei e Ankar, essendo Sevda l'amante del defunto marito di Ankar, Adnan. Weiss decide di nascondere alcuni gioielli rubati da Ankar nella tenuta di Sevda. Nel prossimo episodio, in onda mercoledì 9 agosto, tutti si preparano per la cerimonia funebre di Ankar. Nel frattempo, Weiss avvia una segnalazione anonima che porta la Guardia Civile a fare una perquisizione a casa di Sevda. Durante la funzione religiosa, i gioielli rubati vengono trovati, e i gendarmi arrestano Sevda. Weiss è convinta di averla fatta franca, mentre Demir decide di proseguire con il funerale, promettendo a Sevda di affrontare la situazione una volta terminata la cerimonia. Successivamente, al commissariato, Demir assiste all'interrogatorio di Sevda. Inizialmente, Demir non crede che Sevda possa aver ucciso Ankar, ma inizia a cambiare idea quando nota contraddizioni nelle sue dichiarazioni. Sevda rivela di aver visto Ankar poco prima della sua morte e di aver rifiutato i soldi offerti dalla matriarca. In realtà, era stato Demir a fare l'offerta, non Ankar. Sevda rimane senza parole quando le mostrano i gioielli ritrovati nel suo cassetto. A questo punto, la guardia civile è convinta di avere una prova schiacciante per incriminare Sevda. Dall'altro lato, le poche certezze che Demir aveva riguardo alla colpevolezza di Sevda, almeno per quanto riguarda il fatto di non aver ucciso direttamente Ankar, verranno completamente distrutte, e anche Demir inizierà a dubitare. Nella puntata del 10 agosto, Zuleya sarà tra i pochi personaggi a rimanere lucida e a non credere nemmeno per un istante che Sevda possa aver commesso un atto così ignobile. Zuleya farà notare al marito che l'omicidio avrebbe avuto senso solo se Adnan fosse stato ancora in vita e Sevda avesse voluto sposarlo o trascorrere del tempo insieme a lui senza problemi. Ma al momento, l'omicidio, secondo il pensiero di Zuleya, non ha alcuna spiegazione. Zuleya sarà particolarmente lucida e consapevole di questa possibilità, e spingerà Demir a riflettere se sua madre possa avere altri nemici a Kukurova che potrebbero volerle fare del male, al punto di arrivare all'omicidio. Nel frattempo, Fikret, cambiando dinamica, troverà una missiva accusatoria contro Mugeigan, firmata da Ilmaz, nel vecchio studio di Demir. Questa lettera era stata scritta per cercare di scagionare Mugeigan dalle accuse di tentato omicidio contro Zuleya. Fikret riporterà la lettera a casa per aiutare Mugeigan, con la quale ha instaurato una bella amicizia. Quando Fikret porterà la lettera a casa di Mugeigan, cercando di aiutarla, avverrà un momento di tensione in cui Mugeigan strapperà la missiva dalle mani di Fikret e andrà su tutte le furie, perché lui l'ha mostrata. Fikret sarà arrabbiato perché penserà che Mugeigan abbia scoperto la lettera da tempo e non glielo aveva comunicato. Ilmaz spiegherà che ha creato tutto questo trambusto solo per aiutare Mugeigan, ma lei lo accuserà di aver ancora una volta nascosto un dettaglio importante. Nell'episodio che andrà in onda venerdì 11 agosto, Fikret ammetterà di aver trovato la lettera nello studio di Demir e di averla riportata indietro nel tentativo di salvare Mugeigan. La dottoressa proverà ancora più rispetto per il nipote di Fekeli, mentre Ilmaz chiederà a Cetin di indagare su Fikret, convinto che il ragazzo stia nascondendo qualcosa. Intanto, Sevda sarà in custodia cautelare per l'omicidio di Ankar, ma riuscirà a dimostrare la sua innocenza sfruttando le competenze del suo talentuoso avvocato. Infatti, dimostrerà che nel momento in cui l'omicidio è avvenuto, lei stava parlando al telefono a casa e ha ricevuto due pacchi da un corriere nello stesso periodo. La distanza tra il luogo dell'omicidio e la casa di Sevda è di 12 chilometri, quindi è praticamente impossibile che lei abbia commesso l'omicidio mentre parlava al telefono e riceveva pacchi. Il piano di base andrà quindi in fumo e dovrà trovare un'altra persona da incastrare per provare a salvare se stessa. Le anticipazioni settimanali terminano qua. Cosa ne pensate di quanto successo? Fatemelo sapere nei commenti, e se ti è piaciuto lascia un mi piace, ed iscriviti al canale, per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!